Buongiorno, eccoci qui dalla meravigliosa Sardegna, l'isola di Davolare alle nostre spalle, ma oggi non siamo qui per parlarvi della Sardegna, ma bensì della Fondazione Prometheus. Marco Aceti e Jessica Pizzi, siamo qui ragazzi per invitarvi a sostenere anche voi la ricerca per il cancro delle donne e siamo qui insieme alla Fondazione Prometheus appunto per fare questo. È molto importante, vi prego di sostenerla insieme a noi e di farlo sempre perché è veramente fondamentale. Aiutateci, grazie, un bacio. Noi ci siamo come tanti colleghi, attori e mondo dello spettacolo insieme alla Prometheus assolutamente sì, perché basta poco che ce va, una volta un grande amico mio e quindi avanti tutta e forza così. Sostenete anche voi appunto la ricerca per il cancro ancora. Ciao. Un bacio, grazie.